Quasi 100 spettacoli da giugno a settembre tra Italia e Svizzera, 45 comuni coinvolti, sostenitori di un programma legato a doppio filo col territorio, per sete di appartenenza e di sostenibilità, attento alla salute dell'ambiente, sensibile alle piccole e grandi emarginazioni, tanto da portare l'arte nel cuore di paesi arroccati e borghi periferici. Terra e Laghi, concepito dal team di Silvia Priori e Teatro Blu, incanta e conquista per ambizione e respiro, affermando il ruolo di un proscenio da retrogusto politico ma non politicizzato, attivista ma non incasellabile. In agenda anche Monio Vadia e il suo recital ispirato all'enciclica di Papa Francesco.